Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Aspetta che passa la moto Oggi partiamo con una nuovissima serie in cui vi farò vedere delle magie Oggi sono qua con il mio cameraman che ve ne farà vedere un paio Oltre a me che ne farò anch'io un paio Partiamo, questo è un mazzo normalissimo, tutte le carte diverse, giusto? Sì Adesso tu ne prendi una e la fai vedere nella fotocamera Vai? Ok Perfetto Adesso la metto, come puoi vedere, esattamente più o meno in mezzo al mazzo Vedi che non la tengo né in cima né sotto, ok? La carta è in mezzo Adesso proverò a ritrovare in un modo veramente molto particolare Metto le carte dietro la schiena e riuscirò a trovare la tua, ok? In quanto tempo, più o meno? Due secondi! Due? Cioè ma è troppo difficile trovare in due secondi Allora facciamo, no, tre! Facciamo uno, facciamo uno Questa È questa qua ragazzi Il due di cuori Io prendo il due di cuori, ok? E lo vado a mettere più o meno in mezzo al mazzo Anzi lo spingi tu all'interno e poi hai messo le carte Ok Questo è un sette di fiori No, aspettate Questo qua è un sette di fiori E poi Boga si ritrova un due di cuori Doce Come ha fatto? Allora prendo un Phoenix Blu È un Basicol Rosso Perfetto Andiamo Grazie Un 5 di fiori, no? Adesso 5 di fiori Lo giro E lo butto nel fiume Guardate come lo butto nel fiume L'ho butto lontano dalla Eh, no, vabbè Sì, lo butti nel fiume Ok Vabbè, vabbè Adesso, aspettate Ok Se io giro la carta Abbiamo due dinari Perché è sparita Di quadri, sì Se è sparita non so neanche dov'è Sì Cioè, vedetela a cercare Ok? Ma se noi vedete Questa tasca è vuota Ma questa tasca Contiene Invece Il 5 di fiori Uuuu Ragazzi, devo andar via Perciò Nicolos vi lascerà il link Del mio canale in descrizione Ciao Ciao I'm walking alone Vi faccio vedere una magia con due joker È una carta rossa Ok? Adesso vado da una mescolata A un mazzo Così Perfetto Prendo la carta rossa Ok? E la vado a mettere Qui Ok? Dopodiché Ci vado a mettere Le altre due carte Sono Ma basta un attimo Che il 10 di quadri Rissale in Cino Bene ragazzi Spero che questo Primo video di magia Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Se volete Che continui questa serie E niente Noi ci vediamo alla prossima Seguitemi su Instagram E mandatemi se volete La richiesta di me Città su Facebook Noi ci vediamo alla prossima E ciao Vabbè c'è gente che Mi guarda strano I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around